Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a giocare a Roblox sul gioco che speriamo che lo dirà, non lo dirà, comunque è un gioco dove si vive, dove a tipo dobbiamo fare la vita normale intanto voglio provare così, 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 in poche parole a tutto il microfono, infatti avete sentito che così, perché questo telefono per registrare dovevo trovare delle cuffie e io ce l'ho quindi, vabbè, così possiamo stare allora, tanto vorrei fare così, ok, prendiamo una bella macchina perché qua ci sta una bella macchina, tanto prendiamo, prendiamo una macchina di questo qua, sì, perché, non so perché, però questa qua è la macchina più veloce che c'è no comunque, ragazzi, questo telefono, allora, avete visto che mi lamentavo sul telefono Ulefone, perché si bloccava, ma guardate ragazzi, questo telefono, vi giuro, io ho cambiato sette telefoni per farvi sapere ho cambiato sette telefoni, ma questo Samsung è il migliore, cioè, è bellissimo ragazzi, è troppo bello, cioè, non l'ho mai, non l'ho mai, io ce l'avevo un Samsung nel 2020, sì, sì, sì avevo un Samsung, ma quello si bloccava tutto, perché, cioè, sapete, il 3, il 3, 3 di RAM 3 GB di RAM, 3, va bene, ok, lo sapete, bravi quello non ce l'aveva manco uno e mezzo di RAM manco uno e mezzo, ragazzi sai che è? non vale niente, non valeva niente quel telefono ma questo, ragazzi, guarda voi, non sapete, ma è bellissimo cioè internet si gioca una meraviglia, cioè, con internet questo telefono, se, guarda oh, bello, vai dietro ok, cioè, se non è questo telefono, la cosa migliore di questo telefono, che cos'è? Tutto la cassa ma non è che questi micro, no, perché ogni volta mamma ragazzi, che se quello di sopra è il microfono non state sentendo niente, ma, comunque, vedete il video perché, comunque, non penso sentite, dai comunque non so perché si è uscito ah, non ho visto la ringhiera no no eh, sì qua c'ho gli ultimi soldi bello comunque, eh comunque, eh, volevo dire che voglio cucinare si può cucinare? non lo so bello, sì, sì e che cosa posso mettere? vediamo eh, cosa si mette in forno? ah, prendiamo questo questo mettiamolo dentro il forno no, la voglio mangiare vabbè chiudi, 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 chiudi no, voglio sprecare corrente va, e mangiamo puliamo un poco, dai ma com'è? ah, va bene chi è che mi sta bussando? mamma, non ho chiuso a chiave non ho chiuso a chiave ragazzi ma anche le finestre ma c'è no, ragazzi non avevo chiuso a chiave non andare a correre la tua mamma di, mamma, non mi hai per il tizio ma se questa è casa mia che volete allora e fai no, sai che la cosa più brutta di Roblox è che ti avvicini a una parte e devi sederti per forza perché non è quello chiudi a chiave perché non è quello allora intanto prima di sedermi attiviamo le luci ok questo che cos'è? eh bianco vabbè, grazie grazie che bello mamma mia wow che bella la luna e i lupi dove sono? uno mi potrebbe entrare anche vabbè facciamo aperto c'è le luci tanto pare che le pago io no non penso vabbè ciao qua si gioca a calcio penso no perché sembra un campetto di calcio poi qua si mangia e qua può uscire bello bello ma io voglio entrare dentro casa che guarda sto morendo di freddo sono giornate d'inverno no scherzo non sono giornate d'inverno non si può più entrare e scherzavo che si poteva entrare io come entro ora vabbè dai entro dall'altra parte comunque devo andare a fare un poco di shopping ma che chi me l'ha detto di uscire di casa sai che faccio? 11 12 13 14 15 16 7 questo non è mia no no questa di chi è? ah questa è mia si 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 etto regames 13 vai ma la porterà aperta esci subito ma perché vuoi entrare dentro casa mia? che cosa c'è casa mia? che costa più di te? wow che cos'è? ah qua dentro devo mettere una cassaforte che qua non sembra una porta un muro ma comunque la luce? no? va bene non fa niente la porta ah ma sto morendo di sonno ma sai io mi sto un pochino al pc windows 10 e e mi guardo un panda che sta giocando a al dondolino qua friend si più no 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 apriti bello mamma mia ma non voglio più andare a dormire ho paura che viene quello sopra il mio telefono ma comunque andiamo a comprare un po' di cose andiamo andiamo che sto morendo sto morendo dalla voglia di andare a comprare qualche cosa perché poi comunque devo farmi pure la spesa che non ho niente dentro casa sperando che non c'è la stalking la stalker la stalker scusate scusate allora ora con questo telefono registro è una meraviglia oh non mi buttate piccio che si rompe che poi come registro aspetta aspetta no macchina ok io non voglio settarmi ok comunque questa casa blu me la sono presa me la sono subito cacciata perché ho fatto schifo ma ma c'è squel l'ho uccisa andiamo ce n'è ok non sono stato io l'ho uccisa ma dai eeeh la vita è bella beh la vita non si ritorna mai indietro gli passate le cose allora andiamo a prendere la spesa ma guarda che bello ma voglio comprare allora devo pagare con la scheda la mia scheda roblox ming che mi serve anche il carrello che devo comprare un po' di cose apri grazie pizza perché se qualcuno vuole venire a mangiare da me oh se qualcuno vuole venire venite cioè allora quella marrone che è fondente e quella giallina patatine che sono uscite proprio ieri poi coca acqua presa poi latte milk e poi un po' di hamburger si grazie grazie tipo un hamburger andiamo a pagare prendiamo la scheda dov'è la scheda ok grazie eeeh ok possiamo andare a pagare come si paga eeeh come si mette questo eeeh devo proprio saperlo come si fa perché comunque io eeeh ma eeeh ma come si mette comunque prendo la boost no devo pagare prima aspettate che devo pagare scusate comprato eeeh non rubo quindi prendo questo grazie 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 allora grazie grazia ok io me ne vado eeeh questo che cos'è nooo ma scusa me lo dite ora che c'è sto negozio netflix c'è ma questo è un cinema eeeh per ora lo caccio allora da dove si sale da dove si sale è un cinema ma scusa ma mi fate entrare per a guardare il cinema da dove si sa dove si fa eeeh questo si deve cacciare una persona importante allora che già ho letto il nome ma questo non è un cinema eeeh posso far vedere le cose va bene ma questo non è un cinema questo qua forse è dove si registra aspetta ho capito cosa mamma sono andato su whatsapp perché troppe persone mi stavano scrivendo e si è cacciata la casa perché infatti esci si caccia la casa l'ho rifatto tutto a posto niente andiamo a fare la spesa un'altra volta perché mi devono sempre rompere no l'ho fatta la spesa vabbè e dove stavo andando ah si vabbè comunque andiamo a fare la benzina perché ho camminato un sacco il video chiuso allora mettiamola scusate ok facciamo il pieno perché ne ho abbastanza dai dai muovi scosto tu ma Ettore Games Roblo mettevo la la ragazzi non avete sentito niente quello che ho detto ho messo il microfono nella la mano nel microfono ma non è mi sono abbandata a casa comunque ho voluto dire che siccome si è chiuso siccome mi stavo mandando troppo messaggi ho e quindi ho deciso di cacciare il il gioco e vedere su whatsapp tutti questi messaggi e ho cacciato e quando si caccia questo gioco si caccia anche la casa che secondo me dovrebbe restare la casa su usciamo subito 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 entriamo 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 fammi entrare fammi entrare chiudi la chiave telecamera telecamera la telecamera ok nessuno 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 va bene ma comunque secondo me se tra qualche minuto se non chiudevo la porta ero già derubato dai dai miei nemici che sarebbero persone che rubano i soldi che la cassaforte è qua ok ok comunque dobbiamo fare anche un coso qui la telecamera nel nella cassaforte allora forno va bene qua dentro che cavolo c'è vabbè non mi interessa niente partiamo con la macchina chiuditi chiuditi ok partiamo con la nostra smartphone smartphone e comunque ho preso viola perché quella viola è piccola a me mi piacciono le macchine piccole ma intanto è l'unica piccola comunque ora vorrei ho voglia di derubare un po' queste persone ma non lo faccio ovviamente nella vita reale perché non è giusto no il vecchio trucco no si deve baggare perché ma comunque qua è chiuso dai sono attenti le persone dai devo dirlo dai vabbè ciao guarda guarda questo ma guarda che attento ma figlioli vabbè andiamo più in là andiamo 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 ma sotto c'è soltanto negozi e i negozi non hanno la banca non hanno queste cassaforti come le case quindi quella è casa mia non mi disturbo non mi dirubo dirubo ah sopra ci sono case non mi dirubo da solo comunque qua non c'è niente boh non lo so più veloce non potete andare la macchinina ci sto chiedendo un pochino veloce già guarda mi devo prendere quella gialla quella gialla era un missile si vabbè questa macchina è per i nonni secondo me i nonni lascia dai presa 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 che non ce la facevo stare con quella macchina aiuto aiuto vai oh 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 ah ma con le oh con le case potevo prendermi con la boh saliamo subito per la strada derubiamo a tutti con le bombe ma anche io ma forse con le bombe non ce la fa ad aprire la porta ora vediamo ora vediamo nuove case intanto vediamo se questa è casa mia e non mi derubo da solo ho detto c'ho due case quattro tre case ci sono mamma tre tre persone stanno giocando comunque vediamo se troviamo la bomba perché mi serve la casa cioè devo rubare che è successo ok vai dai vai dai vai 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 ecco dai non funziona ciao bello non ce la faccio più vabbè ragazzi spero che il video vi sia piaciuto noi ciò prossimo video domani ciao